Se partiamo dal presupposto che i tifosi devono entrare nei palazzetti con l'impasto rafforzato, con le mascherine FFP2, non ha senso che ci sia questa riduzione. Insomma, quindi chiaramente è dettata sicuramente dall'emergenza, ma obiettivamente poco razionale, che penalizzerà molto, soprattutto le attività che giocano nei palazzetti al chiuso, quindi tra i primi la palla a volo. Poi l'altro grande tema su cui è stata posta l'attenzione è stato il mancato rifinanziamento della credito d'imposta sulle sponsorizzazioni, che per i nostri sport sono di vitale importanza. Questo provvedimento aveva permesso, questi due anni, di tenere botta, di restare sicuramente, tenere in vita le nostre società. Se ci togliete il pubblico e ci togliete anche il credito d'imposta delle sponsorizzazioni, per noi è un danno sicuramente irreparabile. Ecco, a tutto ciò si è aggiunto anche il fatto che la Lega, in maniera piuttosto arbitraria, ha deciso il rinvio della giornata del 26 dicembre. Voi l'ultima partita l'avete fatta il 19, tornerete in campo tre settimane dopo. 26, dopo fatti i tamponi eravamo completamente liberi da Covid, avremmo potuto giocare e questa decisione non ci trovo assolutamente d'accordo, anche perché venivamo da un periodo sicuramente buono e quindi sicuramente sarebbe stato per noi importante giocare il 26 e non giocare dopo 20 giorni. Ecco, veniamo alle questioni tecniche. Insomma, la squadra ha chiuso l'anno solare 2021 sicuramente con un bottino poco soddisfacente rispetto alle aspettative. Assolutamente sì, i numeri non si piegano, abbiamo otto punti in classifica, sicuramente mancano rispetto a quello che avevamo in testa, almeno sei punti. Alla ripresa del campionato, il 9 giocate contro Chieri, non sono messi più passi falsi, Presidente? Quello che chiedo ci sia un'inversione di rotta, di tendenza, di aggressività, di tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi in maniera non completa, non perfetta e quindi c'è sicuramente bisogno di un cambio di passo e questo lo chiederò alla squadra.